Ciao a tutti, oggi in questo video parleremo di assistenza remota. Cos'è l'assistenza remota? Io addirittura ho preso il titolo della mia attività appunto da assistenza informatica online appunto perché lavoro molto con l'online quindi riesco a fare assistenza online a distanza tramite la mia macchina. Per intenderci, quale programmi si vanno a utilizzare appunto per fare l'assistenza remoto? Allora, di solito sono soltanto due quelli che vengono più utilizzati e sono da una parte il classico e conosciutissimo TeamViewer dall'altra parte invece il conosciutissimo AnyDesk. Prende io ora dopo anni che ho utilizzato insomma il TeamViewer ovviamente poi TeamViewer ha deciso di fare diventare questo bellissimo perché il TeamViewer è stato sempre un bellissimo ed è tuttora un bellissimo programma ha deciso di farlo diventare da versione free quindi gratuita a pagamento e ahimè purtroppo ha perso molti molti utenti quindi siccome a noi piace lavorare bene con dei programmi che sono gratuiti e lavorano effettivamente egregiamente quindi sono passata anch'io stessa a fare assistenza remota con AnyDesk quindi oggi andremo a vedere proprio l'utilizzo non del TeamViewer che anche se vi spiegasse il TeamViewer ovviamente è diventato a pagamento quindi credo che anche voi volete spiegare insomma un programma che invece è gratuito e potete scaricare gratuitamente quindi parleremo proprio di AnyDesk cosa serve e quando bisogna utilizzarlo. Allora, per andare a scaricare AnyDesk che è questo programma che permette il collegamento fra due macchine a distanza dobbiamo andarlo a prendere sempre tramite una pagina web quindi andiamo ad aprire sempre il nostro browser andiamo a scrivere qua AnyDesk e diamo invio rifiutiamo i cookie il programma, il sito dove dobbiamo andare a scaricare il programma è questo di qui il primo quindi l'applicazione di desktop remoto più veloce clicchiamo col mouse e andiamo a cliccare su scarica ora il programma è partito e ha finito lo scaricamento del file il download del file possiamo andare a chiudere il file che ritroveremo appena scaricato sarà questo di qui quindi sarà un'icona rossa con i due rombi all'interno bianchi per andare a installare faremo doppio clic col mouse perfetto si aprirà questa schermata allora qui dovete stare un pochettino attenti non è perché si è aperto questa schermata il programma è installato è soltanto pronto però a noi interessa andare a installare il programma per evitare ogni volta di andarla a scaricare quindi in questo caso per installare il programma paradossalmente lo dobbiamo chiudere quindi chiudiamo subito con la X lui chiederà immediatamente desideri installare un'esca ora dobbiamo cliccare su sì perché a noi interessa non la versione live ma proprio la versione da installare per ritrovarla così sempre pronta nel nostro computer in caso in cui avremmo bisogno di un tecnico che lavori a distanza per sapere quale difetto ha il computer quindi clicchiamo su sì in questo caso dobbiamo andare a togliere un paio di spunte quindi il percorso dell'installazione lo lasceremo così per com'è il crea collegamento al menu start l'andiamo a togliere il crea icona sul desktop invece importantissima l'andiamo a lasciare fleggata e installare la stampante l'andiamo a togliere quindi qua negli aggiornamenti lasciamo la versione aggiornata consigliata per com'è e andiamo a cliccare su installa andiamo a dare sì perfetto lui prende già ha installato la versione di any desk che sarebbe questa di qua eccola qua quindi questa è l'icona proprio di any desk del programma questo è il file di installazione invece che possiamo andare a cestinare tranquillamente ok allora questo è il programma in questione le any desk lo possiamo andare ad aprire quindi con il doppio clic chiudiamo un po' di icone andiamo a cliccare con il doppio clic andiamo sì e si avvia il programma che è la stessa icono di poco fa però non è più in live è proprio un vero programma quindi in questo caso perché si va a utilizzare le any desk allora io essendo un tecnico che ho molti clienti o molte persone che mi chiedono sai ho un problema al computer per esempio mi è diventata di colore strano l'icona dell'antivirus puoi vedere che cos'è perfetto anziché andare io dal cliente e magari abita lontanissimo oppure abito in un'altra città perché è partita da in vacanza quindi materialmente o il cliente non può scendere perché è un disabile oppure in quel momento è impossibilità da scendere perché ha persone dentro in questo caso conviene fare un'assistenza a distanza quindi con dei numeretti che sono questi di qua dove c'è scritto questo dispositivo io andrò a collegare sempre con il permesso del cliente stesso della persona su cui andiamo a effettuare questa assistenza a distanza remota quindi andremo a collegare i due computer per vedere cosa c'è quindi in questo caso io chiederò al cliente di andare ad avviare l'enidesk e il cliente mi dirà ovviamente io chiederò il numero di questo dispositivo che sarebbe il numero del cliente finale quindi una volta che il cliente mi dirà ammettiamo tutti questi numeretti anziché lo zero mi dirà per esempio il nome finale io andrò a scrivere su inserisci id nella rubrica il numeretto del cliente do invio e aspetto effettivamente che il cliente ha ricevuto il mio invito quindi il cliente in quel caso deve accettare il mio invito quindi dobbiamo essere certi comunque che sta per arrivare una richiesta da un'enidesk perché se tutto assieme noi non dobbiamo fare assistenza nel computer si apre un'automatica un'enidesk chiedendo una richiesta noi ovviamente non dobbiamo per nulla al mondo andare ad accettare questa richiesta perché significa che qualche persona sta entrando nel computer a prescindere questo è difficile e capita perché anidesk si va ad aprire quando effettivamente interessa a voi fare assistenza a distanza quindi assistenza remota non si va ad aprire così a caso però nel caso in cui rarissime volte si dovesse aprire da solo vi arriva questa richiesta senza che voi ne avete fatte effettivamente un utilizzo del programma non accettate mai quindi in quel caso se siete stati voi a chiedere una richiesta al vostro tecnico a una vostra figlia, quello che sia per essere aiutati date accetta e in quel caso i computer saranno collegati quindi in quel caso il tecnico, un vostro parente, quello che sia una figlia potrà direttamente muovere e gestire il mouse del vostro computer quindi aiutandovi a distanza in quel caso quando il tecnico, chi che sia, avrà finito di lavorare chiuderà con la X qua sopra il programmino e quindi già è finito, è terminato tutto non vi dimenticate sempre di andare a chiudere anche il programmino qua in basso nella barra degli strumenti perché rimarrà sempre aperto e pronto quindi sempre con il tasto destro del mouse facendo esci con il mouse e dando la vocina di sì, di conferma quindi questo per quanto riguarda appunto l'assistenza a distanza quindi io la trovo comoda non solo per i clienti che, come abbiamo detto prima hanno difficoltà a portare magari il computer o stanno lontano o sono in viaggio quindi riesco ad aiutarli a distanza sempre per quello che si può fare con questo programmino perché se sono cose, insomma, blande allora uno riesce ad aiutare a distanza se sono cose difficoltose che richiedono molto tempo perché funziona sempre con la connessione internet tanto magari in quel momento c'è poca connessione quindi salta spesso il programma quindi ci sono talmente tanti fattori che bisogna andare a tenere conto per utilizzare effettivamente questo programma comunque, diciamo detto ciò il programma è veramente, veramente fantastico perché permette la qualsiasi cosa permette di aiutare permette anche il trasferimento dei file quindi se ho bisogno di trasferire un file ad una macchina il remoto posso farlo e viceversa posso prendere un file il remoto dall'altra macchina quindi il programma funziona veramente bene e soprattutto la cosa che ci piace è che è completamente gratuito almeno sino ad oggi poi se adotterà le stesse esigenze del team viewer questo non si sa detto ciò non significa che non bisogna andare a scegliere per esempio team viewer perché team viewer è anche ottimo e può fare anche assistenza su più macchine con lo stesso indirizzo quindi il team viewer è anche ottimo la differenza purtroppo è solo che è diventata a pagamento che magari all'inizio un utente che non ha mai utilizzato team viewer lo fa utilizzare gratuitamente per un po' ma dopo qualche mese sicuramente al 100% lo farà diventare a pagamento provate a scaricare questo programma e vedete che veramente vi renderete conto che è un programma fantastico soprattutto se non siete diciamo in grado di utilizzare bene il computer o spesso insomma avete degli errori quindi potete benissimo chiedere aiuto a qualche altro che al team viewer e vi potete far aiutare a distanza ciao a tutti alla prossima